Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ex vice sindaco di Sabatini, tutti la vogliono, tutti la cercano, il centro-destra, il centro e adesso anche il Partito Democratico. Andiamo ad ascoltare tutti comunque per le prossime amministrative a terra. Lei è sempre generoso, nei miei confronti la ringrazio della sua stima, ma le posso assicurare che il nostro atteggiamento, l'atteggiamento dell'ascolto, l'avevamo già anticipato, è quello che dobbiamo mantenere e continuare ad avere per ascoltare tutti e soprattutto per capire quali siano i programmi per il futuro di questa città, perché è l'unica cosa che davvero conta. Il resto è relativo a quello che faccio io e gli altri amici che con me condividono questo percorso. Credo sia più importante invece sapere quali siano gli obiettivi, perché siamo ormai a un anno dal voto ed è ora di capire quali sono le reali intenzioni di questa maggioranza uscente, ma soprattutto anche di coloro che vorrebbero in qualche modo sostituirla. Lei è stato un amministratore, ha avuto delle che è molto importante, ricordiamo ovviamente quella del bilancio, ma soprattutto quella della ricostruzione. Che cosa è cambiato da quel giorno quando lei si è seduto sulla poltrona della ricostruzione della mano? Io sorrido perché sulla ricostruzione ebbi modo di dire nel 2016 c'è un articolo ancora presente, nel 2017, che se questi sarebbero stati i ritmi avremmo verosimilmente avuto 15 anni di tempo per ricostruire. Temo che sulla ricostruzione pubblica, sulla privata non mi esprimo perché credo che Legnì abbia fatto un ottimo lavoro, ma sulla ricostruzione pubblica, e non è una colpa che può essere ascritta evidentemente all'USR, ma deve essere invece ovviamente imputata agli attuali amministratori, siamo oggettivamente fermi. Io nel 2017 credo che lasciai a spanne circa 50 milioni di euro, credo siano ancora quelli lì senza ancora progetti esecutivi, Savini chiusa, San Giuseppe chiusa, Comune chiuso e tanti altri palazzi che aspettano un ripristino, un decoro, una rifunzionalizzazione che era auspicabile già allora, figuriamoci oggi, sono dei corsi sei anni. Come si vede? Centro-destra o centro-sinistra? Mi vedo al centro. Gatti o D'Alberto? Ad oggi non c'è una decisione, anche perché non so se sono questi candidati, quindi vedremo, credo che non siano gli unici.